Bilancio positivo per il primo appuntamento di Mercatorre, la prima fiera dedicata al modernariato, al collezionismo e all'artigianato tenutasi domenica ai molini meridionali Marzoli. Non solo oggettistica e arredamento, anche musica e intrattenimento. Un'iniziativa promossa da Stecca e Ascom Giovani, in collaborazione con il Comune di Torre del Greco. Soddisfatti gli organizzatori. Stradinaria partecipazione da parte di famiglie giovani che sono venute nonostante la pioggia. Devo dire che questo è un esperimento ben riuscito che ci dà la spinta per proseguire e per organizzare altre iniziative, anzi ci auguriamo di poterla organizzare già per il mese prossimo. Ringraziamo ovviamente il Comune di Torre del Greco che ci ha dato l'opportunità di organizzare questa iniziativa che Stecca e Ascom Giovani hanno organizzato con l'idea di rianimare un luogo simbolico di questa città che sono i molini meridionali Marzoli ed avere quindi l'occasione di presentare quelle che sono le attività culturali e le attività che noi proponiamo ogni giorno ad un pubblico ampio che è fatto appunto di famiglie, di giovani, di professionisti che sono venuti qui con la curiosità e con la voglia di vivere un momento conviviale, un momento conviviale dove è stato possibile curiosare tra le bancarelle, guardare oggetti particolari, scoprire dei dettagli di questo luogo, insomma è stata una giornata molto bella. È bellissima la fusione che c'è tra le bancarelle appunto, lo street food, la musica, i DJ e la varietà di età. È una cosa interessante da ripetere che ripeteremo a breve, l'idea è quella di farla mensilmente e rivalutare appunto questa zona dei mulini meridionali Marzoli che è un simbolo di Torre del Greco. È stata una bellissima giornata ieri, un test ben riuscito, abbiamo raccolto la sollecitazione dell'assessorato alle politiche produttive nel poter creare eventi e manifestazioni che avessero diciamo un accento sul tessuto culturale e imprenditoriale di Torre del Greco e riportarsero in auge luoghi storici e culturali della nostra città. Anche per questa iniziativa i temi al centro dell'attenzione, quelli della sostenibilità e del riciclo. Sì, in effetti è tutto incentrato sulla sostenibilità, quindi sul riuso e riciclo dagli indumenti all'oggettistica. Ovviamente anche nelle prossime edizioni aumenteremo il ventaglio di contenuti e di soggetti partecipativi. In effetti stiamo creando dei nuovi progetti sia di collaborazione che di partecipazione per la rigenerazione urbana di luoghi storici e culturali della nostra città. Quello di domenica è solo il primo appuntamento in programma, anche altre domeniche dedicate a questa iniziativa. La prossima edizione sarà nel mese di giugno, rimanete sintonizzati per saperne di più e così continuerà anche nelle domeniche estive di luglio-agosto.